Questa è una delle migliori famiglie in Turano, perché qui hai un grande partito, tu arrivi con il mio auto, il mio auto è qui, vicino la propria propria. Sì, perché non è castagno, questo sì, questo no, ma la prima cosa è il tetto. Sennò ce l'hai in casa la piscina, non si piove. Un'altra parte, un'altra parte, a un'altra parte, a un'altra parte. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti